Musica Signore e signori buona domenica e benvenuti in una nuova edizione del TG6 la settimana. A Pescara come in molte altre città aumentano i giorni di apertura degli hub vaccinali per permettere le vaccinazioni anti-covid. Più possibilità di vaccinarsi per i cittadini pescaresi a partire da oggi infatti la ASL del capoluogo adriatico potenzia l'attività del centro vaccinale ex Lidl in via Colle Renazzo con l'apertura anche del lunedì mattina. Il centro quindi sarà aperto tutti i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì del mese dalle ore 9 alle ore 13. Gli over 12 potranno accedere anche senza prenotazione. L'auspicio è quello di vedere sempre più persone decidere di vaccinarsi. Questa è la crescente richiesta delle vaccinazioni abbiamo deciso di aumentare un ulteriore giorno lunedì e quindi saremo aperti lunedì, martedì, mercoledì e venerdì in orario 9.13. Una stagione questa, dottor Diuzzi, è un po' particolare, fa caldo, siamo in piena estate, lo scorso anno di questi tempi c'erano pochi positivi, quest'anno ce ne sono tanti. Perché? Le faccio la domanda da medico ovviamente in questo caso. Beh, questo è dovuto alla variante Omicron che ha un'altissima diffusibilità del virus, per cui tante persone sono state contagiate anche durante il periodo estivo. Come stanno andando le vaccinazioni? Vi aspettavate più persone da vaccinare? C'è un po' ancora di diffidenza? Insomma, qual è anche l'appello che fa l'Asla di Pescara, soprattutto agli over 80, perché ce ne sono molti che non hanno ancora fatto la quarta dose? L'appello è quello di vaccinarsi, di usare le mascherine, di lavarsi le mani, di evitare luoghi affollati. La vaccinazione è rivolta agli ultrasessantenni, per cui invitiamo tutti gli ultrasessantenni a vaccinarsi, a effettuare la quarta dose, laddove siano passati 120 giorni dalla terza dose o dalla manifestazione della positività al Covid. Il dottor Di Luzio spera in un abbassamento della curva dei contagi con il passare delle settimane per evitare, come si suol dire, un autunno caldo? Ma in autunno, per quanto riguarda la vaccinazione, siamo in attesa di un nuovo vaccino che dovrebbe coprire maggiormente le varianti Omicron. Speriamo che arrivi. Per quanto riguarda l'andamento epidemico, se non ci sarà un abbassamento della curva epidemica, in mesi invernali la vedo un po' dura la situazione. Nei reparti dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti non c'è una vera e propria emergenza per il numero elevato di ricoveri da Covid, ma l'aumento dei casi sta richiedendo una complessa organizzazione per isolare all'interno dei reparti casi di positività che vengono scoperti dopo il ricovero. Una vera e propria bolla Covid, ossia un reparto nel reparto. Alla luce del caldo eccessivo di questi giorni e anche dell'aumento di contagi da Covid, come sta reagendo all'ospedale di Chieti? Lo chiediamo al professor Cipollone. Sì, l'ospedale si trova ad affrontare una duplice problematica. Da un lato è l'aumento di alcuni ricoveri stagionali, cioè legati al caldo particolarmente forte in questi giorni, che in pazienti fragili come i nostri anziani possono slatentizzare e quindi precipitare delle patologie croniche. Pensiamo allo scompenso cardiaco, all'insufficienza respiratoria, al soggetto con ipertensione e terapia farmacologica. Questo caldo può precipitare dal quadro clinico in questi soggetti e quindi condizionare la necessità di un ricovero in ospedale. A questa problematica, diciamo così, annuale, stagionale, si aggiunge invece il rebound della problematica del Covid che sta vivendo quest'estate e una inaspettata crescita dei ricoveri e quindi dei contagi e dei ricoveri. Non tanto come impatto da un punto di vista assistenziale, perché comunque il Covid di questo periodo in soggetti plurivaccinati è un Covid che ha un'espressione clinica più lieve, però crea problemi soprattutto di tipo organizzativo in ospedale, perché ogni reparto ha nello stesso reparto il paziente Covid e il paziente non Covid e quindi si creano difficoltà nella gestione di percorsi assistenziali o diagnostici. Pensate ad esempio a un attacca o un esame radiografico in un soggetto Covid che deve essere programmato in percorsi e in tempi differenti rispetto ai soggetti non Covid o a una banale endoscopia che però se da fare in un soggetto Covid positivo richiede l'utilizzo di una sala dedicata a problemi di disinfezione ed altro. Per quanto riguarda invece la quantità di presenza nel reparto, l'accesso al reparto, si può parlare di una situazione stabile o si può parlare di un allarme, di un'emergenza? No, emergenza no. Diciamo che in un reparto come una medicina, oramai circa il 30% dei soggetti ricoverati sono soggetti con positività del Covid. Molto spesso è una comorbilità, soggetti che entrano per una normale patologia di aria internistica, quindi polmonite, scompenso cardiaco, patologia epatica e poi si scopre, grazie al monitoraggio continuo dei test che facciamo, la positività. Quindi si crea la necessità di fare una bolla Covid, cioè un'area separata all'interno del reparto dove tenere i pazienti con personale sanitario dedicato per quell'area che non sia promiscuo con le aree non Covid e quindi una complessità assistenziale. Crescono le assunzioni nella nostra regione? A dirlo è un report elaborato del Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila. Il dato preoccupante riguarda il difficile reperimento della professionalità. Vediamo. La formazione, soprattutto in questo momento storico, tra crisi e transizione tecnologica, è sempre più indispensabile al fine di ottenere un posto di lavoro. Meglio se mirata, questo da facilitare l'avvicinamento degli utenti ad un mercato in crescita nella nostra regione. Infatti, l'ultimo bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Ampal ed elaborato dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila, ha fatto emergere come delle 12.670 assunzioni previste nel mese di luglio, il 37,6% sarà di difficile reperimento. Il dato sale a 29.560, considerando il trimestre luglio-settembre. Il 72,9% delle entrate riguarderà i servizi e il 27,1% l'industria. Per quanto riguarda i gruppi professionali in Abruzzo, il 46,6% delle entrate riguarderà impiegati, professioni commerciali e nei servizi, il 26,4% operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, il 15,5% professioni non qualificate e l'11,6% i dirigenti, le professioni specializzate e i tecnici. Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano, in Abruzzo come in Italia, gli operai specializzati, in particolare la categoria fondatori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria e professioni simili, quella degli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e quella degli artigiani e operai specializzati nell'installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche. Di difficile reperimento anche gli addetti in professioni tecniche, tra cui in particolare i tecnici della gestione nei processi produttivi di beni e servizi e i tecnici in campo ingegneristico. A livello territoriale sono previste 3.350 entrate nelle imprese della provincia di Chieti, 8.040 considerato il trimestre, 2.610 nella provincia dell'Aquila, 5.970 nel trimestre, 3.860 nel Terramano, 8.490 nel trimestre e poi Pescara con 2.850 entrate, 7.060 nel trimestre. Nonostante le pressioni da parte del Comune di Moscufo, che si è schierato a favore della Quercia, l'ANAS non accetta alcun tipo di dialogo e di compromesso. Per questo è stato organizzato un sit-in contro l'abbattimento dell'albero sulla statale 151. La rovella storica di Moscufo è stata condannata a morte. Questa è la denuncia delle associazioni di categoria che stanno provando in tutti i modi a far desistere ANAS dalla scelta illogica di abbattere una quercia secolare lungo la statale 151 che collega l'area metropolitana di Pescara all'area Vestina. Stiamo parlando di una delle strade più pericolose trafficate d'Abruzzo, dove in passato non sono mancati incidenti, spesso mortali. C'è il rischio che nel caso di succedere un incidente dopo l'abbattimento e con questa rotatoria noi, le associazioni ambientaliste, Italia Nostra, di Pescara e così via ci costituiamo parte civile per chiedere i danni. Il tutto nasce a seguito della volontà da parte della società che si occupa delle infrastrutture stradali di realizzare un'oratotoria tra viale Kennedy e l'ingresso per la zona industriale. Un progetto denunciano le associazioni fittizio senza pareri economici oltre che di pericolosità dell'infrastruttura. Il cartello di cantiere, tra l'altro, è comparso solo a seguito della richiesta delle associazioni. Che non risponda alle normative e ai requisiti che devono avere le rotatorie, che devono essere elementi di sicurezza, sta infatti completamente esterno rispetto alla strada e dà fastidio a un albero perché probabilmente si rendano conto che qualcuno perderà il controllo della macchina, andrà qui sopra. Allora per non avere un ostacolo togliamo l'albero. L'albero intanto ha già subito la totale cementificazione del suo spazio vitale, fino al colletto eliminando ogni centimetro di terra. Che produce un habitat per la vifauna, produce comunque ombra in un periodo abbastanza caldo, insomma, quindi noi abbiamo chiesto un tavolo tecnico all'ANAS per poter discutere insieme di eventuali, diciamo, soluzioni per il salvataggio di un albero così importante, ma non siamo stati presi in considerazione. In occasione della cerimonia del 157esimo anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, a Pescara è stata scoperta la targa di intitolazione della rotatoria di via Tiburtina a Largo Guardia Costiera. Vediamo. Comandante, quella di oggi è una doppia festa perché ricorre l'anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto e poi c'è stata l'inaugurazione di Largo Guardia Costiera a Pescara. Finalmente il coronamento di un sogno che abbiamo sempre avuto, quello di dare un maggiore risalto a questo simbolo della Guardia Costiera che ci onora e ci rende orgogliosi, che è l'aereo. Quindi Largo Guardia Costiera nasce da un progetto di intesa con il Comune che il Sindaco ha subito sposato e l'abbiamo realizzato grazie a loro, ovviamente, e noi veramente sarà un vanto per noi e per tutto il corpo. La cerimonia di oggi conferma il grande legame tra la città di Pescara, una città di mare e il corpo delle Capitanerie di Porto, in questo caso di Pescara. Certo, ogni città sede di Porto ha un rapporto diverso con l'amministrazione comunale perché la maggior parte delle attività si svolgono proprio sulla fascia costiera e Pescara ne è la prova con tutti i suoi chilometri, circa 100 chilometri di costa con gli stabilimenti balneari. Quindi la tutela dell'ambiente, i controlli, tutto quello che riguarda queste concessioni le facciamo sempre di intesa con loro per cui c'è un feeling perfetto su queste questioni. Oggi è l'anniversario della nascita del corpo delle Capitanerie di Porto nato il 20 luglio del 1865 quando la capitale italiana era Firenze, quindi pensiamo un po' quanto tempo fa. Le Capitanerie di Porto hanno svolto sempre un ruolo importantissimo nel nostro territorio, nella nostra nazione, che è una nazione che ha 8.000 chilometri di coste, l'Abruzzo ne ha 170, per noi vedere le divise bianche della Marina Militare, delle persone che sono addette alla sicurezza e al servizio a mare è una garanzia. Quindi ci piace sottolinearlo, ci piace riconoscere al corpo delle Capitanerie di Porto un ruolo importante e fondamentale sulla nostra realtà, sulla nostra comunità e per questo le dedichiamo questo spazio di fronte all'aeroporto e credo che facciamo un atto giusto, un atto che era doveroso fare, lo facciamo in un giorno importantissimo, significativo, per rinsaldare ancora di più il rapporto tra la città e il corpo della Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera. Agricoltori disperati rischiano di perdere ancora una volta il loro raccolto. Chiedono risposte alle istituzioni per una problematica, quella di cinghiali che sta mettendo sempre più in ginocchio questo settore. Siamo stufidi questa storia, da qualche anno è sempre di più, sempre di più, le istituzioni non è che prendono provvedimento. Dopo tutte le spese che abbiamo fatto, questo è il risultato. Danni che superano in alcuni casi anche il 50% del seminato. Non ce la fanno più gli allevatori della regione Abruzzo che da anni ormai tentano in ogni modo di combattere la problematica dei cinghiali. Come si può notare dalle immagini, in questo caso specifico ci troviamo nelle campagne tra Rosciano e Cepagatti in provincia di Pescara. Gli ungulati hanno dissutto quasi per intero il prossimo raccolto di mais. Noi abbiamo investito 1200 euro a ettaro per mettere il mais e per raccogliere il nostro mais. Adesso questi sono i risultati. Qua qualcosa deve cambiare, non ce la facciamo più. Questa situazione deve cambiare. Oppure dovete dare qualche incentivo ai cacciatori per farli abbattere. Voi li avete messi anni fa, questi cinghiali, e voi dovete trovare la soluzione. Il tempo è scaduto. Una trentina i cinghiali che ogni sera si aggirerebbero per le campagne della zona facendo razzia di tutto. Per questo, a sostegno degli agricoltori, sono intervenuti i cacciatori che si dicono pronti a dare una mano. Con la caccia di selezione non si risolve il problema, neanche con la caccia notturna. Per risolvere il problema ci vuole la caccia con i cani, la famosa girata. Ma bisogna farla sempre, 365 giorni all'anno. Il caro delle materie prime e la siccità di questi mesi rischiano di mettere definitivamente in ginocchio questo comparto. Per questo, i risarcimento ai danni sono l'infa vitale. Vabbè, la regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro. Tu che danno hai subito? Hai subito 10.000 euro di danno? Il 20% ti possiamo dare 2.000 euro. Ma com'è? Se io ho subito un danno di 10.000 euro, tu mi dai 10.000 euro. Il piano di risanamento acustico rischia di affosare definitivamente le attività del distretto del Food and Beverage del centro di Pescara. Lo sostiene confartigianato Pescara che lancia l'allarme. Vediamo. Le associazioni di categoria degli esercenti criticano aspramente il nuovo piano di risanamento acustico del centro cittadino, invitando l'amministrazione comunale di Pescara a mediare con i residenti per arrivare ad un allungamento dell'orario degli eventi organizzati per il prossimo mese nel quadrilatero di Piazza Muzzi. Per noi è anacronistico discutere di questi argomenti dopo la pandemia e in un contesto economico di crisi e di incertezza per il futuro. È nata una polemica, ho letto un articolo dei residenti nella zona centrale, credo che con questo articolo loro hanno gettato la maschera. E noi come associazione insieme a Pescara Viva abbiamo fatto un programma di micro eventi con un impatto acustico irrilevante, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, è calibrata per la zona e da lì è successo il finimondo. Io non ho più parole perché noi vogliamo mediare, vogliamo andare incontro, ma siamo in una città di mare, se a luglio-agosto, tra l'altro è il 21 luglio, noi abbiamo fatto questo programma luglio e agosto, fine settimana per accendere la città. Vogliamo una città turistica e si discute ancora di questi argomenti. Noi dovremmo fare un monumento all'attività di quel centro. Io, i residenti, che tra l'altro sono pochi e non rappresentativi della zona, vorrei ricordare che senza le luci di quelle attività, lì arriverebbe probabilmente il degrado che è dietro l'angolo in Piazza Santa Caterina. Poi, sinceramente, non riusciamo a capire come è normale che in una città di mare l'estate si accende in tutte le zone, in Riviera e altre zone. Come mai questa tensione in quella zona centrale? Noi chiediamo al Comune, una volta per tutta l'amministrazione, spero che questa azione dei residenti abbia un po' svelato quali sono i loro obiettivi, a mio avviso per loro dovrebbero chiudere anche le gelaterie di quella zona e una volta per tutto si faccia una scelta. Deve prevalere l'economia, poi non dimentichiamoci che come loro hanno diritto, perché abitano lì, hanno diritto anche alle attività che hanno delle licenze, quindi siamo a pari diritti. Noi vogliamo, tra virgolette, trovare un punto di incontro. Se di fronte c'è chi ha un atteggiamento talebano, l'amministrazione deve aprire gli occhi. Il 25 settembre gli italiani torneranno al voto per le elezioni politiche. A seguito delle modifiche costituzionali ci sarà un taglio dei parlamentari, da 945 a 600 seggi. Anche per l'Abruzzo ci sarà un calo della rappresentanza da 21 seggi a 13, 9 deputati e 4 senatori. La crisi di governo e il decreto di scioglimento delle Camere firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprono la strada alle elezioni anticipate, fissate al 25 settembre. Un periodo anomalo per una campagna elettorale che prenderà il via nel pieno dell'estate. Saranno le prime politiche che faranno i conti con il taglio dei parlamentari. I deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. Una diminuzione che tocca ovviamente anche la circoscrizione Abruzzo. La nostra regione nelle politiche del 2018 ha espresso 21 parlamentari, 14 deputati e 7 senatori. Ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Una contrazione che renderà ancora più vehemente la lotta per spuntare nelle liste una posizione che garantisca o almeno renda plausibile una elezione a Montecitorio o a Palazzo Madama. Circa le candidature, un monito è arrivato nelle ultime ore dal consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, il quale auspica che il presidente della regione, Marco Marsiglio, non scenda in campo per queste elezioni politiche. Marsiglio è infatti uomo di spicco di Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni, sondaggio alla mano, è uscito rafforzato da questo periodo trascorso all'opposizione del governo Draghi. Alcuni rumors lo vorrebbero in lista, in attesa che Marsiglio, il cui mandato di governatore a naturale scadenza nel 2024, prenda posizione in tal senso, va ricordato che per i presidenti di regione non c'è inelegibilità in Parlamento, bensì incompatibilità e in caso di elezione dovrà scegliere entro 30 giorni se entrare in Parlamento o restare in regione. Nel 2019, da senatore, Marsiglio si dimise dopo l'elezione a presidente di regione. Ricordiamo anche che la precedente consigliatura in Abruzzo fu interrotta quando, al culmine di una vicenda che si dilungò fino alla pronuncia della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Luciano D'Alfonso scelse il Senato e rassegnò le dimissioni da presidente della regione nell'agosto del 2018, determinando il successivo scioglimento del Consiglio regionale. Intanto, dopo la firma del decreto di ieri da parte del Capo dello Stato, è iniziato il timing delle scadenze propedeutiche al voto. Entro il 12, 13 e 14 agosto, i partiti dovranno depositare al Viminale i contrassegni e simboli elettorali. Il 21 e 22 agosto sono i giorni riservati alla presentazione delle liste e dei candidati negli uffici centrali elettorali costituiti presso le corti d'appello. Dal 26 agosto l'inizio della propaganda elettorale fino al giorno del voto, domenica 25 settembre. Entro il 15 ottobre la prima seduta delle due Camere del Parlamento. Domenica 28 agosto sarà una giornata storica per l'Aquila e Abruzzo. Papa Francesco sarà in città per l'apertura della Porta Santa. I dettagli sono stati svelati dal Cardinale Arcivescovo, metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi. L'Aquila per un giorno capitale del perdono e della pace. Il 28 agosto sarà una data storica per il capoluogo di regione per il Giubileo Aquilano. Riconosciuta nel 2019 patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, la perdonanza celestiniana segna, con la visita del Pontefice, il suo traguardo più importante nella storia recente. Dopo la sua istituzione decretata da Celestino V, Papa Francesco è di fatto il primo Pontefice che dopo 728 anni apre la Porta Santa. Il Papa è molto determinato nel venire. Come avete visto ha fatto interventi chiari per spazzare via dal campo interpretazioni del tutto gratuite e quindi legittime, riproponendo il tema centrale di una visita pastorale segnata dall'incontro del successore di Pietro con questa chiesa, con questa città segnata da una storia alta e anche dolorosa. Prima tappa della visita nel capoluogo sarà in Piazza Duomo dove farà visita in forma privata all'interno della Cattedrale di San Massimo che porta ancora i segni del terremoto del 2009. Lì ci sarà l'abbraccio amorevole di Papa Francesco ai familiari delle vittime del sisma. L'ha firmato lui quel programma quindi vuol dire che nel suo rendersi presente tra di noi la sua attenzione è sempre centrata su questo aspetto del rendersi prossimo. A bordo della Papa Mobile il Santo Padre si dirigerà alle 10 nella Basilica di Santa Maria di Colle Maggio dove celebrerà l'Omerilia e l'Angelus cerimonia questa che culminerà nella storica apertura della Porta Santa il cui attraversamento concede l'indulgenza plenaria ai fedeli cristiani. L'Aquila, città del perdono dall'Aquila può arrivare il messaggio per una pace importante nel mondo? Io ne sono sicuro anche perché la pace non si costruirà se non si sarà capaci di rimuovere le diffidenze. La zona economica speciale ha una nuova spinta è stato siglato l'accordo tra l'Istituto Bancario l'Intesa San Paolo e il commissario della ZES Abruzzo per favorire nuovi insediamenti produttivi e rilanciare l'economia territoriale. La zona economica speciale istituita allo scopo di rilanciare le aree del centro sud più sofferenti ha da ieri una nuova opportunità. Si tratta di un protocollo sottoscritto dal gruppo Intesa San Paolo con il commissario della ZES Abruzzo, Mauro Miccio un accordo che destina un plafone di un miliardo e mezzo di euro alle zone economiche speciali meridionali e consente a chi vuole fare investimenti in queste aree di ottenere ulteriori vantaggi sia in termini di risorse che di agevolazioni amministrative e fiscali. Nell'ambito abruzzese la ZES è costituita dai porti di Ortona e Vasto dall'interporto d'Abruzzo dal centro smistamento merci della Marsica dagli autoporti di San Salve e Roseto e dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Un booster molto importante che va anche intesa con un importante plafone economico mette a disposizione delle imprese che operano in Abruzzo degli investitori che credono e che crederanno sempre più speriamo nell'Abruzzo per la costruzione delle infrastrutture che l'Abruzzo ha in cantiere e che devono partire e realizzarsi come sappiamo anche grazie ai fondi PNRR entro il 2026. La funzione del mare è importante nel trade dell'Abruzzo. L'import-export via mare copre infatti il 29% del fatturato complessivo con l'estero. La regione importa via mare soprattutto dall'est Asia e dal Nord America e i suoi prodotti sono diretti principalmente verso i paesi europei che non fanno parte dell'Unione e il centro Sud America. Ai primi posti in entrata e in uscita ci sono i mezzi di trasporto e i prodotti chimici. Il territorio abruzzese vive di economia vive di manifattura e vive anche di economia marittima che chiaramente è strettamente collegata con lo ZES regionale. Un'economia marittima che sviluppa 3 miliardi e 3 di prodotto interno lordo annuale grazie ai porti di Ortone e di Vasto che sono attrattivi soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei traffici commerciali. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Petinari è tornato a criticare aspramente la gestione della sanità nella ASL di Pescara parlando soprattutto dei conti in rosso e della mobilità passiva. Vediamo. La ASL di Pescara chiude il proprio bilancio in rosso anche nel 2021. La perdita di quasi 3 milioni di euro una cifra che smentisce tutte le propagandistiche dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo e dell'assessore regionale competente Nicoletta Verì sul presunto pareggio di bilancio che la sanità abruzzese avrebbe raggiunto risanando i propri conti. Ad affermarlo questa mattina è stato il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Petinari che carte alla mano ha svelato quella che è a suo dire la reale fotografia delle casse della ASL di Pescara. Numeri alla mano dati alla mano abbiamo fatto un dossier sul bilancio della ASL di Pescara che nel 2021 chiude con meno 3 milioni di euro comunque un debito importante nonostante si siano verificati tre eventi eccezionali tre fattori importanti più trasferimenti da parte dello Stato più 19 milioni di euro trasferiti da parte dello Stato ulteriori 18 milioni di euro un incremento dovuto alla gestione degli anni precedenti una sorta di conguaglio e nonostante le decine di migliaia di prestazioni sospese non riposizionati causa covid quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati e si chiude comunque con un debito di 3 milioni di euro vergognoso abbiamo scoperto che solamente nell'anno 2021 rispetto al 2019 ci sono state 159 mila prestazioni di assistenza territoriale in meno e accessi in pronto soccorso in meno quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati e 2933 ricoveri ordinari in meno quindi nonostante tutto questo risparmio si va verso questo debito di 3 milioni di euro abbiamo registrato ancora una spesa farmaceutica schizzata alle stelle 95 milioni di euro di spesa farmaceutica a fronte di un tetto massimo di 59 milioni e una spesa farmaceutica convenzionata di 45 milioni di euro a fronte di un tetto di 44 milioni quindi schizzata alle stelle la cosa ancora più grave forse la più grave di tutte è la mobilità extra regionale che ci è costata 32 milioni di euro signore e signori anche per oggi termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti